Ecco come potete vedere Agnese sulla gamba destra sta applicando la resina polimerica brasiliana alla vitis vinifera con la spatola e poi con le mani l'andrà ad asportare mentre dall'altra parte col movimento contrario Luana con la spatola Sweetie sta stendendo la pasta di zucchero adesso l'andrà ad asportare sempre particolarità della nostra linea Sweetie è la spatola Sweetie appunto che permette di applicare la pasta di zucchero non più manualmente ma in maniera più rapida più efficace e più pulita con questa particolare spatola studiata appositamente seguitemi